Purtroppo questo è un problema che noi abbiamo in agenda circa il governo della reggimentazione delle acque. Dobbiamo sapere che gli anni lontani, lunghi, passati vanno recuperati attraverso piani, progetti e risorse finanziarie. Noi a oggi per la reggimentazione delle acque abbiamo assegnato qualcosa come 170 milioni di euro. Bisogna fare quello che si è saputo fare a Teramo Città tra università, comune, provincia, regione e il contesto degli altri soggetti. Mettere insieme tutti quelli che devono dire di sì e poi fare le cose. Qui produrrà risultati, lì circa il governo della reggimentazione delle acque dobbiamo invece impiantare questa nuova cultura.